Lautaro Martinez, una delle stelle dell'Inter e capitano dei Nerazzurri, è stata una notevole assenza dalla partita contro il Lecce, sollevando preoccupazioni tra i tifosi sulla sua forma fisica. Secondo le informazioni diffuse dal Corriere dello Sport, l'attaccante argentino non sarebbe alle prese con un infortunio grave, ma piuttosto con un leggero stiramento ai muscoli adduttori, che lo ha costretto ad abbandonare l'ultima partita. Nonostante il sollievo nel sapere che la situazione non sia grave, c'è ancora incertezza sulla sua disponibilità per il prossimo scontro contro l'Atalanta, in programma venerdì sera. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per altre novità sull'Inter. Secondo il quotidiano romano, Lautaro era presente ieri al centro sportivo della Pinettina insieme al resto della squadra. La buona notizia è che si sente meglio rispetto a venerdì scorso, quando ha iniziato a sentire il disagio. Nonostante ciò, la situazione richiede cautela e sarà attentamente monitorata nelle prossime 48 ore. Lo scenario ideale sarebbe che Lautaro recuperi in tempo per avere almeno un'opzione in panchina contro l'Atalanta. Altrimenti il piano è quello di tornare titolare nella prossima partita contro il Monza dopo la sosta per le nazionali. Il comitato tecnico e i reparti medico e fisico stanno lavorando insieme per garantire il completo recupero del giocatore prima del ritorno in campo, evitando ogni rischio di peggioramento dell'infortunio. L'assenza di Lautaro è senza dubbio un duro colpo per l'Inter, soprattutto in una fase così importante della stagione. Come capitano e uno dei principali leader in campo, la sua presenza è fondamentale per la squadra, sia a livello tecnico che emotivo. Inoltre, la partnership tra Lautaro e Marcus Turam aveva mostrato segnali promettenti, avendo entrambi dimostrato nelle ultime partite grande affiatamento e capacità decisionale. Vista la possibile assenza di Lautaro, il tecnico Simone Inzaghi dovrà valutare le sue opzioni offensive. Medi Taremi, che ha sostituito Lautaro nella vittoria contro il Lecce, ha dimostrato di poter essere un giocatore importante ed è pronto ad assumersi le responsabilità se necessario. La prestazione di Taremi è stata positiva e ha già dimostrato di poter dare un contributo significativo alla squadra, sia da titolare che dalla panchina. La scelta di Inzaghi dipenderà però dalle condizioni fisiche di Lautaro nei prossimi giorni e dal piano di gioco che intende adottare contro la sempre pericolosa Atalanta. Il duello contro l'Atalanta è sempre complicato e la presenza di un giocatore come Lautaro può fare la differenza. La sua capacità di muoversi, di finalizzare e di condurre in campo sono qualità che sicuramente mancheranno all'Inter se non potrà giocare. D'altronde forzare un rientro anticipato può essere rischioso ed è fondamentale che Lautaro sia al 100% prima del rientro in campo per evitare eventuali ricadute. E tu, tifoso dell'Inter? Come ti senti con questa incertezza su Lautaro Martinez? Pensi che la squadra possa affrontare l'Atalanta senza di lui oppure la sua presenza è fondamentale per garantire un buon risultato? Lascia la tua opinione nei commenti.